Oggi in Via Novelli, qui al Social Club, vengono a trovarsi tante persone. Oggi è il turno di una persona che ha deciso di dedicarsi alla politica. Politica attiva abbiamo con noi Lara Comi. Grazie mille Lara. Diventa proprio come quegli americani, è facissima. E' basso, un po' fantozzili. Dopo mi hai dato una mano ad alzare. Abbiamo già un paranco che poi aiuta gli ospiti. Grazie mille Lara innanzitutto. Grazie a voi per l'invito. Un sacco di impegni hai. Il parlamentare europeo, tra poco lo scopriremo perché loro hanno preparato i nostri ragazzi, tra poco li presenteremo, hanno preparato una social card su di te. Come appari tu attraverso i social, è un regalo che ti facciamo, speriamo che sia gradito. Ma abbiamo visto un sacco di impegni. Di solito dicono che in politica non si lavora. Ma non so se si lavora, ma insomma si è impegnati. No, no, no. Ci sono tanti impegni perché tra Bruxelles e anche impegni di spostamenti fisici, quindi tra Bruxelles, l'Italia e il mondo, sì, effettivamente. Non è facile incastrare tutto, insomma. No. Poi bisogna sempre dare un po' ragione a tutti, se si è politici. No, non si può essere proprio scortesi. Ecco, su questo non sono tanto politica. Allora, a noi ci ha accontentato. Sei venuta la cosa importante, questa. Lara, vediamo allora la social card. L'hanno preparata i ragazzi che sono coautori di questa trammissione. Sono i ragazzi della Quarta del Liceo Scientifico Scienze Applicate del NATTA di Bergamo. Bravissimi. Lara Comi, classe 1983, è una parlamentare europea. Ha frequentato l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Università Commerciale Luigi Bocconi. È stata scelta da Obama per rappresentare il nostro Stato in un progetto internazionale sulla leadership giovanile. Viene rieletta eurodeputata al Parlamento europeo ed ora è membro della Commissione per il Mercato Interno e la Protezione dei Consumatori. Oltre a ricoprire diverse cariche politiche, è una grande collezionista di chicchi di grandine e non perde occasione per correre sotto la tempesta a raccoglierli. Riesce inoltre a trovare il tempo per cucinare nuovi piatti che smaltisce in allenamento. È infatti capitano della Nazionale di Calcio Parlamentare Femminile, ma segretamente tifa Messico. Tra una cosa e l'altra, si è anche cimentata nella scrittura del libro AAA Lavoro Offresi, ma non solo. Quando non lavora, ama fare gite fuori porta con la sua Vespa e quando non è possibile, con una sua fedele sostituta. Bravissimi! Applauso pacato. Era un loro prodotto, non si autocelebra nei nostri ragazzi. Lo faccio io, bravi, bravi, bravi. Devo fare solo una precisazione per Forza Messico. Come era mai? Pensavo la moto che non era proprio la tua moto, quella piccola. No, la moto è perfetta, anzi era proprio a misura d'uomo. Era proprio, esatto, in tutti i sensi. Come mai Forza Messico? No, 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 era un'iniziativa di solidarietà quando il Messico è stato colpito da avvenimenti atmosferici particolari, quindi anche quando c'è stato il terremoto. Il terremoto, perciò hai dato la tua solidarietà, ecco, perché hai messo i tuoi sogni. Sì, sì, era Forza Messico, ma per i prossimi mondiali per me Forza Spagna. Ah, tieni la Spagna, come mai alla Spagna? Dopo l'Italia che ci ha dato una grande delusione, a quel punto... Ma proprio la Spagna ti ricordo che ci ha eliminato, però, cioè, ci ha eliminato prima di noi. Però la colpa dell'eliminazione è nostra, cioè, io preferisco guardare, perché sennò dovrei dire la Svezia, dovrei dire tanti altri. Cosa tifi tu, che invece è nella squadra di club? Allora, io prima di essere di Forza Italia, perché è il solito abbinamento che fanno, tifo Milan, quindi prima ancora... Ah, prima di... già pensavo già. Non è che ti hanno scelto... No. Scusa, ho visto dietro di te... Chi c'era? Un interista? No, no, una milanista. Giusto? Abbiamo, come ti chiami? Bravissima, Valentina, viene promossa direttamente. Vabbè, condolianza a entrambi, comunque... No, per questo motivo hai ragione, è un periodo totalmente... Non è un periodo bello, non è un periodo bello. Lara, d'altronde... Però la sconfitta che ho accettato di più del Milan è quella col Benevento. Ah, che è un pareggio, però è come una sconfitta. Per lui è una sconfitta perché... Hai detto bene, è come una sconfitta. Poi ha segnato un bergamasco, Brignoli, portiere di Trescore Balneario, a lui che ha fatto come Aldo Giovanni Giacomo, è saltato fuori dalla... Sì, come tre uomini a una gamba. Uguale, 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 grandissimo gol. No, però se non meritava il Benevento anche di vincere, doveva essere una... Fa simpatia in questo caso. Lara, come mai allora hai cominciato a fare politica? Perché non è facile mai intervistare... Non voglio prendere subito delle scuse, neppure io, ci mancherebbe. I politici, perché rischi o di essere troppo puntuoso, troppo baciapile, troppo in ginocchio, oppure di essere troppo aggressivo. O ti chiedo cose tranquille, tipo... Come mai hai iniziato a fare politica? Ma chi me l'ha fatto fare? Ma che cavolo? Ma chi me l'ha fatto fare? Chi ti ha fatto fare? Guarda, più o meno avevo la loro età. Ho iniziato a scuola facendo il rappresentante di classe, il rappresentante di istituto. Poi a un certo punto ho detto, ma mi tocca andare a votare. E quindi dice, per chi voto? Che anno era, più o meno? Allora, era il 2001. Proprio i 18 anni, è proprio il primo voto. E quindi dico, ma... 2001. 2001, cavallo 2002, chi voto? E allora non avevo nessun pregiudizio per centrodestra, centrosinistra, quindi ho detto, leggiamo un po' i programmi. Dopo strada facendo si capiscono che i programmi sono quasi tutti uguali. Difatti lì è capito di solito. Quasi, eh, ho detto, quasi tutti uguali. Però la parte che mi affascinava di più, perché ho fatto uno scientifico economico, era più diretta sul libero mercato. Quindi su un aspetto molto più, meno Stato, più libertà di impresa. Di mercato. Ma la tua famiglia, di che famiglia era? Da dove, cosa votavano i tuoi? Perché avrei avuto una tradizione. Posso dirti che non glielo ho mai chiesto? E non hai neanche mai capito? E non gliene frega niente della politica attualmente. Ma ti votano almeno? Sì, sì, no, votano. L'Ara la votiamo. Assolutamente, mi auguro, mi raccomando, mettete la crocettina sempre. Almeno mamma e papà. È come i calciatori, sono sempre in gioco. Tu sei sempre, già pensi alle prossime elezioni, però non rinnovano il Parlamento europeo. Di 2019. C'è tempo ancora. Però lei, questo insegna un'altra cosa. I politici sono sempre... No, la vera campagna elettorale inizia il giorno dopo in cui sei eletta. E questa è la grande differenza. Quando tu mi dici sei sempre in giro, perché la vera campagna elettorale non è... Cioè non puoi arrivare tre mesi prima delle elezioni di votati. E dici, ma chi è questo? Ma quando vado? Perciò un lavoro che si fa, lo insegnavano anche ai grandi politici di un tempo, no? Perciò di tenere sempre contatti, rispondere a tutti. Anche la domenica. Anche la domenica. A luna, quando sei a pranzo. Questo lo fanno anche le influencer. Anche la Ferragni deve rispondere a tutti. Non è solo una cosa che gli tocca. Perciò in questo caso... La Ferragni e la Ferragni. L'erso perché. Ma torniamo perciò a quello che dicevo prima. E quindi ho scelto Forza Italia. Hai scelto così. Ho scelto Forza Italia. Si è mai pentita, Lara, di aver scelto Forza Italia perché ha avuto delle vicissitudini. Come è partito? Allora, Forza Italia, poi si è trasformata in PDL e poi è ritornata a Forza Italia. Secondo me il passaggio vero è questo attuale, cioè il fatto che sia Forza Italia e non Popolo della Libertà come era prima. Perché effettivamente tra Fratelli d'Italia e l'attuale partito che abbiamo ci sono delle differenze assolutamente superabili, ma delle sensibilità diverse. In una coalizione giusto che esistano, in un partito secondo me è un po' meno. Perché è molto difficile adesso andare d'accordo. Credo che uno dei problemi del nostro tempo sia proprio l'estrema divisione. Ci si divide su tutto, non solo il centro-sinistra, anche il centro-destra. Magari si compatta per le elezioni. A livello europeo no, perché si ha una bandiera sola che è il tricolore. Cioè non importa se tu sei nelle file di Forza Italia o del Movimento 5 Stelle o del PD. Se un provvedimento va benissimo per questi ragazzi come l'Erasmus, lo si vota indipendentemente da chi rappresentato. Ve lo assicuri? Perché io di solito vedo sempre anche lì litigiosità. Dici che è più apparenza che sostanza. Allora, la litigiosità di solito avviene tra stati membri. Perché ad esempio, le immagini che vengono in mente, quando Salvini va al Parlamento Europeo non ho in mente un'immagine di unità dell'Italia. Perché ovviamente ha le sue dimostranze di partito legittime. Ad esempio, quando fa la battaglia sull'immigrazione, sono gli stessi concetti che noi abbiamo messo nella riforma di Dublino. Quindi che poi vengano detti in modo più acceso o in modo più diplomatico, però la sostanza è quella. Quando si parla della tutela delle piccole e medie imprese, quello che dice Salvini è quello che è stato attuato ancora ai tempi da Tajani con lo Small Business Act. Sulla tracciabilità agroalimentare o sull'agricoltura che qui a Bergamo, insomma, ha una certa rilevanza. Non ci sono divisioni su questo. Ma neanche tra partiti, perché mi hai detto prima, quando si vota sul tricolore. Andate d'accordo tra parlamentari, appunto? Mentre il Movimento 5 Stelle, PD, Sinistra... Abbiamo a volte dei disaccordi che sono legati più sui sindacati, sul ruolo dei sindacati, devo dire. Ad esempio, io essendo nella Commissione Mercato Interno, ma sono vicepresidente del PPE, quello che notiamo come differenza è il ruolo dei sindacati. Per noi del centro-destra devono esserci sì, ma non eccessivamente, perché a volte non proteggono il lavoratore, ma creano maggior burocrazia, maggior problemi anche all'imprenditore, poi nelle assunzioni e tutto. E invece dall'altra parte c'è un pensiero diverso. Perciò mi hai detto che hai fatto politica, sei stata in Forza Italia, però il passaggio da dire voto Forza Italia, poi mi candido per Forza Italia, come è stato un ascensore sociale veloce. Allora, io penso che l'antipolitica la si combatte facendo politica. Proprio in quegli anni, quando si diceva ma tutto va male, lo si dice ancora oggi, quindi vanno avanti gli anni ma non cambiano le varie situazioni, anzi a volte peggiorano. Piuttosto che dire non mi piace nulla e quindi lamentarsi, io ho detto ma perché non ci metto la faccia e ci provo. E com'è successo? Come hai fatto? Hai scritto? Hai telefonato? Allora, prima sono entrata... Ti ha scelto Silvio? Ti ha scelto Silvio? In parte, allora prima sono entrata in Forza Italia Saronno, dove attualmente abito, quindi le mie origini non sono cambiate, poi sono passata a livello regionale con Forza Italia Giovani. Lombardia Giovani. Sì, esatto, come Lombardia e poi conobbi Berlusconi dopo, in una fase successiva allo stadio. Il Milan un po' c'entra allora, il Milan un po' c'entra. Sì, 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 vedendo la partita Milan-Brescia, dove il Milan vinceva il campionato, vinceva. Cioè, era contento? No, e poi Roberto Baggio dava l'addio al... Al Brescia, faceva una partita epocale. Allora lì l'hai conosciuto, che impressione ti ha fatto? È affascinante nel senso politico del teatro, è carismatico. È carismatico, molto carismatico. Premesso che per farmi fare un autografo e una foto, ho dovuto scavalcare un moretto e le guardie del corpo mi dicevano, ma questa è una pazza. Allora io, dimostrando invece che era semplicemente la voglia di conoscerlo, allora mi hanno lasciato passare. Il papà del presidente Berlusconi è nato a Saronno, quindi da lì... Lui ha un giro, anche io penso che ha la zia che io il trono a San momento, io sono di comune, perciò nel paese a fianco, lui ha sempre un posto... Lì ha passato più tempo che a Saronno. Lui, lo sa, continua a dire queste cose, lui ha sempre un posto dove ha qualcuno che conosce. Vedi, quindi deve essere per forza un ambito nazionale. È un venditore lui, ha una capacità comunque di intercettare quello che interessa. È un leader. È un leader su questo. È un leader, quindi piaccia o non piaccia, è un leader. E tutte le politiche che si hanno attraversato, che riguardano anche il mondo femminile, tu come le hai vissute? Che non eri appunto in quel club delle olgettine, non ti hanno dato fastidio, ti hanno... Allora, a livello... Io sono entrata al Parlamento Europeo in seguito alla lettera di Veronica Lario sulle donne. Quindi arrivavamo con un sentito dire, però quando poi la gente inizia a conoscerti e a valutarti per quello che fai e non per il sentito dire, non c'è più problema. Secondo me, la vicenda è su Berlusconi, ma poi l'hanno smentite i fatti, sono grandi bolle di sapone. Tu dici che non è proprio come... Poi faccio una premessa, ognuno a casa sua faccia quel che vuole. Lo dico anche a questi ragazzi, naturalmente nella legalità... Perché il problema è la legalità, questo è sempre un po' il discorso... No, no, ma infatti ho detto, nella legalità ognuno a casa sua faccia quel che vuole e non aspetta a me giudicare nessuno. E perciò hai conosciuto Berlusconi, e gli altri politici invece, gli altri leader di chi ti ha un po' affascinato, anche degli altri partiti. C'è qualcuno che dice, ma questa è una persona che comunque ha un suo perché, perché è impossibile che si vada d'accordo sempre con i propri e gli altri sbagliano sempre, no? No, 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 ma io su questo sono oggettiva, ma anche nei discorsi che vedete in plenaria, se un provvedimento, come dicevo, una legge è fatta da... C'è un bel e bravo che dice, in Europa sta facendo, al di là poi delle diversità di opinioni. C'è un nome, due nomi, tre nomi? Ma, allora, sicuramente un compagno, si può dire in questo modo, dato che parliamo del PD, a livello europeo è Nicola Danti, che è con me in commissione mercato interno, ma anche Paolo De Castro, con il quale parliamo di agricoltura molto spesso e sul tema... Perciò vi trovate, evidentemente. Sul tema della pazza. E dei Cinque Stelle invece che sono appunto arrivati, hanno un atteggiamento anche, puoi dire, di diversificazione da quello che è un po' l'establish politico. Come sono? C'è qualcuno? Intanto salutano, cosa che vedo che in Italia era un po' più difficile, ma ad esempio con Corrao, che avete visto anche di recente per la campagna elettorale in Sicilia, si parla tranquillamente anche di calcio, con Castaldo... A cosa dire, al Milan? No, lui no. L'ha detto, ma con che dolore, a cosa dire lui? No, lui no, però mi prende sempre in giro sul Milan, a volte, quindi... Invece poi con Castaldo, che è un altro del Movimento Cinque Stelle, quindi si parla, si dialoga da persone civili. Che è la cosa che... Che mi sembra sia... Quello che vorremmo anche... Ma anche perché forse si dimentica che prima di essere politici si è persone normali. Questo è vero, se tornassimo... L'altro giorno ho scoperto che cos'è Snapchat, e mi dicono... Scusa, perché ormai sono passato, chi usa più Snapchat? C'è un suo ancora? Loro, secondo me... Chi usa Snapchat? No, niente. E ormai è passato, io sono arrivata... Te lo diciamo perché hai imparato, adesso puoi dimenticare, ma che... No, infatti, adesso devo aggiornarmi. Perché qui si imparano di quelle cose, sta raccordato con i giornali. Vi faccio questo esempio banale. Allora, aereo, un'ora di ritardo, Bruxelles-Milano, perché c'erano due fiocchi di neve. Chiaro, no? A Bruxelles, di solito, c'è sempre il sole a 40 gradi, no? In verità... Invece, vabbè, a loro, ritardo loro, però. A ritardo loro. Ah, perciò non colpa degli italiani, diciamo. E quindi il figlio di una mia amica mi manda una foto con Snapchat e ho detto, però questa cosa è simpatico, voglio provarla anch'io. Allora ho fatto una foto divertente, né provocatoria, né nulla, ti sono arrivati insulti su insulti. Ma per il fatto che un politico abbia usato questo strumento in modo divertente, e qui è anche la differenza, cioè che dovete vedere il politico anche come una persona, come una persona che vive, respira, mangia. Ma riesce ad esserlo, Lara? Te lo domando proprio col cuore, perché? Appunto, sei giudicata, sei indicatata da quello, poi mi etichettano gli altri, però riesci a vivere una vita normale, a sapere cosa fanno le persone normali. Tu che comunque vivi a Bruxelles come una persona, sono tante persone che lavorano fuori, no? Però vivi appunto, hai un tuo staff, sei come una piccola imprenditrice, anzi, diciamo un general manager, perché l'imprenditrice poi è abituato col prodotto. Riesci ancora a avere il polso di quello che accade, a essere Lara e non più l'onorevole Comi? Allora, quella foto che avete visto con la Vespa è Lara Comi. Quella foto che vedete quando gioca a calcio e si diverte, ed è l'unica in me del centrodestra nella nazionale delle parlamentari, quindi dovremmo implementare anche questo, è Lara Comi. È difficile dividere chi sei, ma anche in questa trasmissione... Quello si indossa sempre delle maschere, chi entra in televisazione indossiamo sempre la maschera, anche io la indosso. Però se io oggi avessi indossato la maschera, questi ragazzi se ne sarebbero accorti subito, perché la vedi la differenza tra chi mi ha parlato fuori e chi parla qua, c'è poca differenza. Se non quella di usare un linguaggio... Certo, in italiano, perché senza permettersi sbavature. Però la differenza che noto rispetto alla Lara di un tempo è che è diventata molto più prevenuta. Cioè si fida meno delle persone. Io sono entrata al Parlamento Europeo 26 anni, ero la più piccolina, e ci si fa le ossa. Quando inizi a prendere delle coltellate, delle cattiverie, ti fai le ossa. Quella è la delusione più grande che ha mai avuto, Lara? Quando credi in una persona e scopri che ti sta mentendo e che ti sta usando. Nella politica o nella vita questo è successo? Spesse volte viene abbinata, ahimè. Spesse volte in questo momento non hai più fiducia perché magari qualcuno si avvicina a te perché vuole favori politici o altro. Perché sono potente, tra virgolette. No, 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 ma anche semplicemente... Un ti vede come potente. Sì, esatto, perché non lo sono. Cioè, poi mi vede come tale perché... Ha visto il lavoro offresi, pensava magari puoi offrire un lavoro a lui, proprio alla persona che ti lo chiede. Ma questo sì, questo magari, questa è una cosa vera, perché in quel libro io indico esattamente dove si può trovare lavoro e dove ci sono posti di lavoro. Però vengono e ti chiedono il biglietto per la partita e il biglietto per il concerto, cioè per andarne la banalità più assoluta, come se tu potessi fare tutto. Io compro i biglietti come li comprano tutti gli altri. Non si dà gratis, se parlamentare. Tra poco entreremo nel mercato del lavoro perché i nostri ragazzi hanno fatto delle interviste. Poi ci interessa, loro sono giovani, entreranno tra poco nel mondo del lavoro. Ti chiedo una cosa ancora personale. Io non sono una persona che guarda i giornali di gossip, perciò non so nulla. Nenche io. A volte non riconoscono anche le persone famose. Nenche io. Ma tu hai, invece, una vita privata, Lara, tu sei sposata, sei fidanzata, frequenti delle persone. Allora, sono singola e c'è poca vita privata. Ecco, questo è quello che la politica mi toglie. Mi toglie un po' il mio spazio perché giustamente, come dicevi tu, alla domenica, se c'è una manifestazione, bisogna andare. Il concetto è il bisogno andare. Senti il dovere che viene prima del piacere. Questo è sì. Però vi do una notizia che comunque un giorno da qua a domenica di ferie me lo prendo. Ah, di ferie. Una persona ti sposi o ti fidanzi? Invece mi sa una cosa che trova il fidanzato. Un giorno, eh, ragazzi. Un giorno. Un giorno di ferie lo trova. Sì, perché noi a Bruxelles non abbiamo Sant'Ambrogio, non abbiamo tutte le cose. Ma avete qualche festa nazionale europea? No, là sono più gli attacchi terroristici che i santi, quindi devo dire. Si vive difficile. Si vive sotto un po' assedio là. Si ha un po' paura di queste... Diciamo che non sia in totale tranquillità. Allora, Lara, facciamo un passo, ci facciamo un secondo senso insieme. Guardiamo il filmato che hanno preparato. I nostri ragazzi sono andati a chiedere sul mercato del lavoro. C'è una trucchissima. alzino la mano uno, due, tre, quattro, cinque qui grazie a impiccionare. Sopra nessuno? Grande, c'è anche qualcuno. Stadio Anello 3 di San Siro. Grande Anello 3 di San Siro. Allora, vediamo. Allora, insieme questo filmato e poi lo commentiamo. Vediamo, via. Ispirati dall'arrivo della nostra ospite, Lara Comi, abbiamo raccolto il parere delle persone riguardo ai giovani e al loro ingresso nel mondo del lavoro. Qual è la prima cosa che le viene in mente se si parla di giovani e lavoro? È un po' un problema adesso perché molti non accettano il lavoro un po' perché in effetti forse viene richiesta una specializzazione. Che andiamo molto male, poveri giovani. Credo che i giovani oggi abbiano molte più possibilità rispetto ai giovani di vent'anni fa ma viviamo un momento in cui poi l'inserimento nel mondo del lavoro è molto più difficoltoso. E secondo lei cosa si potrebbe fare per i giovani nell'ambito del lavoro comunque? Dovremmo avere un governo che pensasse veramente ai giovani non solo a parole ma a fatti. Io non credo che si debbano fare, io credo che i giovani debbano farsi. Certo non sostegni economici perché non sono uno stimolo a lavorare. Quindi secondo lei i giovani sono svogliati? No, non è che siano necessariamente svogliati. I giovani interessanti ci sono anche oggi. I giovani non sono svogliati purtroppo manca l'entusiasmo. I giovani d'oggi hanno molta voglia di fare sono in certi casi molto preparati. Fortunatamente l'Istat dice che le persone che non cercano lavoro e non hanno lavoro stanno diminuendo in Italia. Cosa ne pensa lei in riguardo? Io so soltanto che siano più lavoro e lavori a part time e l'Istat li prende come lavori. In ultimo volevamo chiederle Se lei si definisce una mammona quindi che è uscita di casa tardi o è iniziato a lavorare presto? No, mammone no. Io ho iniziato a lavorare studiando a vent'anni quindi ho cercato di darmi da fare il prima possibile e sono uscito di casa a 25 anni. No, no. Gli hanno detto altro che mammone. Io ho cominciato a lavorare nelle vacanze estive quando facevo la scuola media. Se non c'è sacrificio non ci si può aspettare troppo dagli altri. I bergamaschi non hanno perso fiducia nei giovani ma pare che a volte la volontà non basti e la difficoltà permane. Laura, pensaci tu. Almeno non era biglietto per lo stadio in questo caso era una richiesta un po' più corposa insomma. Che è giusto farla a un politico. È giusto farla a un politico questo, no? Beh questo è un lavoro dei politici. Sì, perché quando si dice i politici non devono trovare lavoro alle persone è sbagliato. Non c'è conflitto di interesse. Cioè se io dovessi ricevere come avviene domani mattina un curriculum di un ragazzo bravo, capace e dall'altra parte incontro un imprenditore che mi dice senti Lara guarda io sto cercando una persona con queste caratteristiche ma perché non devo dargli quel curriculum? Cioè questo... Vedevo qualcuno che alzava la mano dalla regia basta giù le mani. Sto scrivendo il curriculum e scrivere il curriculum non è una banalità infatti nel libro che posso fare pubblicità perché guardate il ricavato va in borsa di studio per i ragazzi quindi posso tranquillamente tanto noi stiamo pubblicità senza pubblicità occulta solo pubblicità trasparente No no però mi sento proprio Nel libro c'è scritto come fare il curriculum Allora c'è come fare un curriculum come ad esempio presentarsi a un colloquio di lavoro e l'altro punto è usare i social network per trovare lavoro sapete come ho trovato io Lavoro? Allora pensavo No ma è vero io ho iniziato a fare cioè ho iniziato a fare il parlamentare a 26 anni mi sono laureata a 23 e mezzo e quindi non sono stata a guardare in tutto Allora cosa facevi? Allora ho fatto prima uno stagio alla Byersdorf che le ragazze conosceranno come Nivea Ah la Nivea Sì e quindi facevo Nivea Belli e Nivea Sun Quella Nivea proprio quella rotonda Esatto quella che adesso gli uomini continuano a mettersi presenta anche Milan faceva la pubblicità della Nivea Man Milan proprio è E beh vedi è un filo conduttore E come hai fatto a trovarlo? Allora su questo l'ho trovato con l'università in questo caso invece il secondo alla Giochi Preziosi quindi il calcio è sempre vedi che c'è sempre E poi vicino a voi Cogliate alla Giochi Preziosi Esattamente l'ho trovato con LinkedIn A LinkedIn hai trovato grazie a LinkedIn Ti ha preso un preziosi? No in quel caso era responsabile delle risorse umane della Giochi Preziosi ho mandato il mio curriculum E lui l'ha accettato Sono curioso chiedere a Paolo Paolo sembra non è soltanto un imprenditore perché voi avete una cooperativa perciò una cooperativa Come fai tu? Tu guardi il curriculum Paolo? Sto parlando so che a volte scherzo con te a volte sto parlando seriamente Poco Cosa fai? Cosa consigli tu? Io generalmente dai curriculum elimino non seleziono nel senso che se un curriculum è presentato male non mi viene voglia di verificare se è fatto male o comunque ha delle informazioni faccio un esempio ne è arrivato uno qualche giorno fa senza la fotografia dicendo questa è la mia foto e questo è il mio curriculum e non c'è scusate senza l'allegato la mail senza l'allegato e quindi non c'era fondamentale questa che è già stata scartata è impossibile già ti presenti e invece per scendere una persona cosa fai tu Paolo? Quando dici questa è una persona noi innanzitutto valutiamo facciamo dei periodi di prova abbastanza abbastanza lunghi diciamo e termini che all'inizio tutti danno il massimo poi chiaramente si cade un attimino e il periodo di prova però non è solo una questione in cui noi valutiamo in questo caso il candidato ma è anche un modo per capire se il candidato vuole davvero fare il lavoro che gli chiediamo nel senso che ogni lavoro porta con sé una fatica particolare e dal curriculum questa non si riesce a dire non traspare perciò serve come tu dici serve per eliminare più che per prendere però se fai un curriculum sbagliato sei già fuori alla base perciò come non entri neanche non partici non ti iscrivi alla corsa beh il periodo di prova costa anche all'imprenditore a sua volta perché deve anche spendere delle energie e quindi già nella selezione pre del curriculum è fondamentale sono curioso di sapere questo aspetto ad esempio perché Berlusconi prima al di là di politico Berlusconi o del presidente ex presidente di calcio però come imprenditore non si può dire che non sia un imprenditore lui sceglieva molto sceglie ancora forse ma in base anche alla faccia cioè se mi piace la tua faccia ti prendo se non ti piace il modo anche di porsi nel senso che ad esempio una delle attività non so se vedete che in questo periodo si stanno aprendo tante roadhouse una delle caratteristiche chiave di chi va a lavorare nella roadhouse è l'approccio che ha col cliente tante volte ci si concentra molto sulla qualità del prodotto che deve essere l'elemento chiave ma poco sull'accoglienza ci sono ad esempio delle nostre zone turistiche tra le quali la Liguria alcune zone della Liguria dove loro stessi riconoscono di non essere spesse volte accoglienti non sono accoglienti per niente alcuni per alcuni no perché poi verso Sanremo sono più accoglienti i stavonesi sono più tignosi e questo è un fattore molto importante cioè il fatto di sorridere quando entra una persona nel tuo negozio è un valore qui al nord noi siamo un po' più reticendi parlavo prima di Como però è una formazione che stanno facendo me lo raccontavano appunto sorridi di più potrebbe essere una campagna sorridi di più sì magari ma poi il sorriso secondo me è anche una forma di educazione tu entri se ti vedi già imbronciato e dici che ti è successo stamattina i nostri ragazzi Alice era un po' fammi un bel sorriso Alice meno male sta al gengrado Alice bene Lara stiamo concludendo questa nostra puntata i ragazzi sono stati coinvolti più volte tra poco andranno anche a cercarsi un lavoro non dopo la trasmissione spero che aspetteranno qualcosa qual è invece qual è il tuo come ti vedi tu nel futuro perché sei molto giovane non pensai di far sempre politica no 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 questa è l'unica cosa che ho chiaro ti sei dato una scadenza temporale no la politica mi ha dato tanto mi sta dando tanto io ho dato tanto alla politica quindi è un rapporto reciproco se un domani volessi fare la lobbista sai quali sono i pro e contro sai anche dove metterle mani cioè la lobbista è quella che tiene gli interessi di una categoria ecco questo è quello che manca in Italia cioè la figura del lobbista in Italia viene vista sempre negativamente ce le dici in due parole spiega a mia mamma che cos'è il lobbista cosa è il lobbista perché sembra lobbista mi sembra una cosa brutta ma perché l'hanno identificata brutta invece non è perché se io dovesse andare a lavorare negli Stati Uniti essere lobbista è una cosa permettetemi il termine figa cioè è una cosa trend perché il lobbista è chi fa l'interesse della propria azienda come naturalmente voi in questa radio siete lobbisti di questa radio di questa trasmissione di questo video perché anche di questo youtube che noi siamo anche su youtube vero? all 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 over the world su questo perciò dici portiamo gli interessi della nostra azienda sì ma per fare audience voi portate gli interessi per fare audience fate delle scelte queste scelte sono quelle del portatore di interessi se ad esempio io devo andare a tutelare il grano prodotto a Bergamo perché in Europa rischia di portare avanti l'OGM io sono lobbista dell'agricoltura bergamasca e invece in Italia abbiamo un'accezione negativa no è il conflitto di interesse in Italia viene considerato che se io dovessi ricevere da questo ragazzo un curriculum e domani lo gira un imprenditore scegliamolo bene scegliamo chi sceglieresti tu così a faccia io li vorrei aver tutti questi ragazzi e poi uno seleziona uno devi sceglierne uno uno seleziona posso scegliere una ragazza certo ci vuoi tu io non ti escludo soltanto Filippo perché è il nostro cameraman e dunque ciao Filippo te ti escludo però io direi anche che c'è un problema di fondo che io dando le spalle infatti ti ho detto scegli loro uno di questi dopo loro vedremo cominciamo a scegliere uno di loro chi sceglieresti allora io sceglierei quella ragazza perché sta guardando altrove lei? si sta cercando di evitare tranquilla ti abbiamo scelto ma non devi fare niente ok abbiamo scelto lei d'accordo cosa vorresti fare da grande? la kebabara la kebabara io conosco grandissima posso chiedere un applauso per la kebabara? bravo ma che bel mestiere ma che bel mestiere mi ha trovato cioè che mestiere insolito Gianmarco anche Gianmarco che è il nostro cameraman ma potrei immaginarti la kebabara no ma è grandissima però è il primo pensiero che gli è venuto quindi è la cosa più sentita perfetto mi piace da morire ma è un'attività di famiglia? no no ah ok non c'è il kebab ah ok ok ma è una passione però è legata alla passione abbiamo conosciuto il ragazzo che ha vinto Masterchef Pizza gli piaceva la pizza e ha diventato Masterchef Pizza perciò magari Masterchef Kebab avremmo te magari un futuro la pizza è diventata patrimonio dell'UNESCO tra l'altro allora ti mandano questo curio io voglio fare magari non so prendo un'attività tu cosa risponderesti? cosa diresti? allora innanzitutto quello che diceva un signore non è vero che i ragazzi non devono ricevere soldi perché col fondo garanzia giovani che ahimè in Italia è stato utilizzato male a parte la Lombardia ma altre regioni non l'hanno utilizzato bene il giovane deve avere un finanziamento a volte anche a fondo per tutto quindi io ti do i soldi tu vuoi aprire un'attività di kebab perfetto vai in banca e ti dicono sì ma che garanzie mi dai invece col fondo garanzia giovani ti danno naturalmente non cifre esorbitanti ma sono quei 10 quei 20 mila euro che ti possono permettere di iniziare la tua attività questo era l'obiettivo del fondo garanzia giovani non di farvi fare i tirocini però funziona Paolo io so che Paolo al suo perché a Londra ha funzionato benissimo però vanno via in Germania ha funzionato benissimo in Italia no Paolo tu cosa dici? no io personalmente mi piace facciamo un bel disco no sono favorevole sei favorevole perché noi diciamo gli arrivano i soldi e poi gli buttano via piuttosto che altri in realtà mi arrivano i soldi ma io devo avere un progetto e devo anche solo attivarmi per andare a parlare con la banca per stendere un progetto per trovare un posto in realtà se io non ci credo quei soldi lì non ne faccio niente non li ricevo e non li ricevo non li ricevo neppure tu dici non li ricevo neppure perché sembra così vabbè ti arrivano nella cassetta della posta in realtà no no devi presentare cioè non vengono calati dall'alto deve essere un'idea innovativa abbiamo sfatato almeno due miti a parte il Milan che lasciamo perdere uno appunto che i parlamentari comunque non hanno vita sociale e in questo caso però cercano di averla l'altra cosa però sul mondo del lavoro però volevo sfatarti un altro mito che il politico è il riflesso della società perché ci sono politici che lavorano e politici che non lavorano come dipendenti che lavorano o i furbetti del cartellino ecco questo è quello da dire non è che tutti i politici sono ladri come se io dovessi dire tutti gli imprenditori sono degli evasori ecco questo mai generalizzare possiamo chiudere così questa puntata che mi piace come di tutti i conduttori sono sciocchi e pieni di luoghi comuni sì lì è l'eccezione che conferma la regola qui è la regola che conferma forse l'eccezione altrove grazie mille davvero l'aracomi per il tempo che ci ha dedicato e per la disponibilità grazie a voi anche per il che papà ho una gran guardia del corpo il nostro Byron ma è sentito l'aracomi parlava di lavoro giovane qui abbiamo anche Letizia abbiamo la conosci sì lavora Letizia lavora in Letizia no lavora in un call center non sto scherzando ti è piaciuto possiamo dare Letizia ti è piaciuta l'aracomi come parlamentare sì molto ti ha convinto sì voterai per lei può darsi non poteva dire di no non poteva dire di no non poteva dire di no in verità in verità chiudiamo? chiudiamo chiudiamo chiudiamo